I termini sono quelle linee in mezzo al grafico che servono almeno due punti servono due punti, meglio tre, però se due punti sono contrapposti è ancora meglio due punti contrapposti, meglio, tre punti contrapposti, ancora meglio contrapposti questo? la prossima volta ci metti i numeri tra le pagi ma non l'ho fatto io questo, vedete che ho un chilometro ho pagato, anche faccio questo e ringraziato ma ci arriveranno per la settimana giornata infatti il servitore qua c'era scritto copia e non controllata la giacchina no, ho trovato la pagina ma il tracciamento delle linee, deve essere immediato, ta, ta non la trovo però se una linea intermedia viene tracciata con due punti di appoggio non diventa in quel caso più una linea di supporto mentre invece se è tracciata con due punti uno di supporto e uno di resistenza diventa intermedia si, si, è intermedia comunque il problema è che se è pulita in questo modo è una linea operativa, se è pulita cioè il fatto che dopo quello temo del regalo di flusso ciò che distinguo una linea operativa da non operativa è solo il fatto che sia pulita poi il tracciamento delle linee è precedente al fatto che sia pulita o meno lo decidiamo in seguito, giusto Stefano? ok